Adesso state buoni perché oggi io suonerò e voi canterete e il migliore vincerà la pizza, va bene? Ragazzi, la pizza è di Beatrice. Signorina Cossu, venga lei. Beatrice è una voce fantastica, infatti lei canta ed è stupendo quando canta. Tintarella di luna, tintarella color latte, tutta la notte sopra il tetto. Sopra il tetto come i gatti, gatti. E se c'è la luna piena, tutti venti candidati. E se c'è la luna piena, tutti venti candidati. E se c'è la luna piena, tutti venti candidati. E se c'è la luna piena, tutti venti candidati.